Non si placa il botta e risposta tra comune di Como e cooperativa sociale Colisseum sul centro di via del DOS che chiuderà alla fine di luglio con conseguenti difficoltà per chi frequenta la struttura tra cui molte persone fragili che seguono percorsi terapeutici. Nelle scorse ore è stata diffusa da Palazzo Cernezzi una nota in cui sostanzialmente veniva riepilogato il percorso che ha portato a questa fase di stallo sottolineando che l'amministrazione non si considera responsabile di quanto accaduto. Poco dopo la replica di Colisseum che ha diffuso a sua volta un comunicato a firma del presidente Gabriele Romanò. È necessario fare chiarezza, si legge, il termine di scadenza della gestione era noto al comune a far data dall'8 luglio 2021 data dell'affidamento dell'attuale concessione. Nonostante ciò il comune ha bandito le gare con un colpevole ritardo soltanto il 28 marzo 2022 ossia proprio a ridosso della scadenza. La richiesta di parere all'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione, è stata proposta da Colisseum proprio perché il bando di gara pubblicato dal comune presentava eclatanti lacune che rendevano assolutamente impossibile partecipare alla gara dal momento che, dichiara ancora il presidente, la stessa ometteva di prevedere l'esecuzione di lavorazioni strutturali importanti e conteneva dei conteggi che si ritiene siano macroscopicamente errati. È chiaro, viene precisato ulteriormente, che Colisseum non può partecipare ad una procedura di gara che presenta gravi lacune e incongruità interpretative che appunto si è chiesto ad ANAC di risolvere. Quindi si parla della sospensione della gara stessa, frutto di una scelta discrezionale del comune evidentemente perché ha più di qualche dubbio circa la fondatezza dei rilievi di Colisseum, si legge ancora nella nota, nella quale si fa riferimento anche ad un incarico affidato da Palazzo Cernezzi ad un consulente esterno che assista l'ente nella verifica della documentazione tecnica amministrativa e giuridica.